Benvenuti amici di Edge the Master King Siamo qua con The Binding of Isaac Puntata breve, ogni circa un'oretta Forse qualcosa di meno, perchè poi ho Invegli, quindi proviamo una challenge Direi, vediamo cosa fare Potremo Provare Andiamo eh Proviamo la 31 Che è quella dove dobbiamo sconfiggere Mega Satan Facciamo una Dark Room Perchè io giro? Abbiamo danno 6 Non mi fanno male Non ci credo, non mi fanno male i colpi Ok, forse si Non ho capito bene Cosa Che build ho, ok I colpi mi fanno male, scherzavo Però Merda Ok Envy anche no eh Merda Ok, direi che è andato Devo studiarmi la build Per fare questa challenge Seconda mano Dai che è andata anche quella Merda 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 Grimstone Trovo più difficile Mega Satan Di Di Eh di Eh di Eh di Qual che si chiama? Di delirium Merda Merda occhio al brimstone ma posso volare anche fuori dallo schermo ok come sempre occhio al brimstone non so che livello siamo di danno ma suppongo siamo ben lontani da fargli del male perché scivolo ok ciao siamo ancora ai primi due cavalieri quindi abbiamo dei peccati da fare è un solo cuore prevedo sconfitta clamorosa ok gli altri due bastardo va bene va bene ci riproviamo ho sei bombe da poter utilizzare ok ho tre e mezzo di danno però ci metterò esattamente il doppio brimstone occhio al brimstone vai 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 bomba proviamo a piazzarla è una prize bomb e basta ok 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 merda mi sono fatto uccidere da un mongolo è una challenge difficile cioè raga anche l'ast non ci credo proviamo di nuovo vediamo dark room ok ora ho dei minion volo ok ho sei e mezzo di danno di nuovo attento prima mano prima mano affanculo ho perso due cuori tre quattro affanculo di nuovo ok ok bene cavalieri uno dai 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 no ma stavo volando non pensavo mi potesse colpire anche da terra ok tu devi morire subito immediata subito proprio il tempo bastardo mi ha rallentato muori muori stronzo ok quello più difficile è andato ho un cuore ho un cuore nero ok ok ma come ha fatto a prendermi altri peccati avarizia da keeper ma non posso morire non da keeper almeno dai quante vite ho mezzo cuore ma scherziamo dai 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 ok calma non ci credo non ci credo avevo il restock e non mi serviva niente e qua faccio il danno fa che gare però va bene ma ma ea raggera oh ee 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 vabbè prendila in faccia proprio bastardo di nuovo bene ok Ok, uno stronzo è andato, adesso fuori anche l'altro. Dai, dai, dai. Dov'è? La sopra. Ok. Ok. Ok, vai con satana. Una mano. Ancora un po'. Ok, al brinstone. Una mano è andata. Altra mano. Via, 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 via. Ok. Ok, bastardo. Prendi, stronzo. No, 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 via, bravo. Ok, è andato, è andato. Bravo. Ok, perfetto. Idioti qua. Faremo fuori in un nanosecondo. Merda. Merda, va bene. Un cuore blu. Uno alla volta, uno alla volta. Bene. Con calma, c'è tempo. Ci sono gli angeli poi. Faranno un culo quadro. Ah, il sangue mi fa male. Devo ricordarmi che il sangue mi fa male. Non si capisce niente. Ehi, ma stiamo scherzando? Vabbè, vabbè. Bravo. Ora ho solo Mega Satan, credo. no sono ancora gli angeli sono una merda un cuore non ci credo ripostati no cosa non si fa per mezzo cuore non ci credo è più difficile di quanto pensassi riproviamola danno di tre e mezzo ok ho questo bellissimo cosa che mi permette di fare i cerchi l'holly shot deve fare un male cane la savana brinston perfetto schivato ma ma chi vi fate saltare fuori voi mastardi almeno il minion mi aiuta si però non è possibile questa cosa bomba va bene non ne ho ancora sconfitto una cazzo di mano cioè vi rendete qua adesso una mano è andata nei randi prima eravamo andati bene adesso questa è malissimo per me tutto varia in base al personaggio non ho attivabili non ho consumabili ma come gli è apparsa la mano oh no no ok ok era abbastanza logico proviamo di nuovo tre e mezzo di danno sempre double shot poison shot eternal life ok ogni volta che non ho capito se ogni volta che prendo danno wow non sto capendo cosa sta succedendo ma va bene così mmm bomba wow ok bastardo a noi ci credo vabbè ci sono finito proprio in mezzo ma quindi più il mio danno eh vabbè ma arriverò comunque un danno basso ma infatti ci sono a 4 ora no bisogna rifare exit game proviamo a fare il restart anzi moriamo facciamo prima oh all eternal life un 424 di danno mezzo core bene lo restartiamo vabbè avete visto pillola molto utile però faccio no ma ci metto una vita via andiamogli addosso facciamoci morire dai bravo bravo ram fallimentare proprio bravo buono neanche un minuto proviamo l'ultima volta vi prego 99 monete cosa mi servono a fare se non ho power equal money in più anche la maledizione della ho il buffer no oh you feel protected ho 5 di danno non è male perso solo un cuore finora credo forse 2 blu ma che gare mano di merda ok è andata mano è andata ora c'è lui lo stront c'è virgo che mi protegge si però non è possibile che ricompare su tutta la mano ok ok ma i sti tipi qua non sono affetti da mi fanno un cazzo le lacrime ok uno è andato dai 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 merda danni da contatto non ne devo prendere ok l'altro stronzo è qua merda merda eh boom è guerra che mi fa male minchia perché è un infame vabbè raga ma che rottura di maroni posso dirlo allora basta basta ti odio secondo giro con satana merda non l'ho visto vedi basta ma vaffanculo ho virgo però devo poi se mi spavano addosso è anche ovvio ok guarda lui così di satana giustamente non gli fanno un cazzo ma invece uccidero ok brimstone muori 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 giuro che mi fa male gli occhi anche dopo mi spavano altri ok perfino non è stato abbastanza tranquillo ok tu via 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 sì però non è possibile una roba del genere che fortuna ok tu sei più gestibile adesso via ok voi no voi no mezzo cuore una vita ma lui dopo riparte da capo vedete un proiettile vacante no sette minuti sette minuti naturalmente adesso partiamo da capo da capo mi sono rotto le balle di fare questa challenge provare questa challenge proviamo un'altra c'è vediamo un'altra hard non me la ricordo ah devo arrivare devo arrivare da mega satan no grazie una challenge un po' più breve magari alcune sono ancora bloccate the family man lol devo arrivare a Isaac la bomba qua subito perché abbiamo un item we put bombs in your bombs realmente loro possono essere colpiti io no proviamo l'importante è vedere se ci sono cross of the tower no bravi in giù loro merda lo sapevo anche qua basta ma di qua bravi ho perso un cuore intero qua non mi danno niente se non una bomba allora con la bomba andiamo in cima e ci riprendiamo posso posso aprire il negozio anche se non ho la chiave why not perché no wow abbiamo trovato anche due stanze segrete ok quindi il negozio è attivo bene ok e di là cosa abbiamo un eterno alert buona 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 tre faccio esplodere te bravo in meglio faccio esplodere te anzi voi wow mi servirebbero le mosche giganti stavo prendendo cross of the tower no grazie e sprechiamo un'altra bomba qua per prendere questo ok va bene va bene va bene va bene cross of the tower no grazie prendiamo l'eternal anzi lo prendiamo dopo così abbiamo il cuore garantito entriamo qua pin merda vedi avrei già sprecato il cuore buono un speedball va bene siamo più veloci solo noi però prendiamo l'eternal e andiamo giù secondo piano dobbiamo arrivare dai che lunga è lunga è lunga è lunga saluto lo spettatore che mi sto guardando stiamo provando la challenge family man stiamo provando anche perché circa alle 9 smetterò di giocare quindi ok questa è una stanza abbastanza semplice potrei provare già qua se c'è la stanza segreta esatto yes bingo allora uno ok wow potevo aspettare un attimo effettivamente a prenderli per vedere se c'era possiamo usare la dad's key in tanti modi otteniamoci la chiave ricarichiamo la dad's key apriamo il negozio anzi no 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 dio qua usiamo la chiave wow ho il negozio potenziato praticamente ho restock dobbiamo assolutamente arrivare a 15 monete vado ad avere restock di sicuro una bomba a voi ve la metto ok prima cosa che dobbiamo prendere restock assolutamente quindi arriviamo alle bombe alle all'items necessario che sono ok ci arriviamo perfettamente prendiamo restock forever bam ok e una bomba qua sperando che stia ok non proprio quello che volevo ma va bene bomba lui ok non proprio quello che volevo ma va bene mi servono monete mi serve mi servono bombe wow internal alert che lasceremo lì fino alla fine della gara nel caso non dovessi finirla perché voglio alle 9 staccare come vi ho già detto questa è una stanza di merda lascerò la run in pausa e la continueremo domani oh 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 sto perdendo troppo 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 attenzione attenzione bene 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 un altro lì bene ok batteria apriamo stanza segreta si no non era qua a quanto pare perché non mi ha trovato la stanza segreta è qua esatto la duds key serve per questo non pensavo funzionasse anche con le stanze segrete ma a quanto pare si quindi torniamo in giù ok lui può darci un items le stanze adesso le abbiamo trovate tutte quindi non ha più senso cercare stanza segrete non abbiamo così tante monete ad adorare alla alla macchina lui lo prendo no preferisco la duds key ok proviamo una moneta no 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 bomba ci servono monete bene 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 l'ho capito solo ora wow e ancora uno ok raga abbiamo 20 monete abbiamo un altro cuore e mezzo credo esatto io qua non prenderei niente ho preso una chiave la bussola interessante merda fortuna 3 non c'è più niente devo mettere una bomba lì ah no prendiamo questa chi se ne frega è più che utile ok prendiamo il cuore ah cazzo vabbè dai fai niente fai niente chi se ne frega scendiamo abbiamo sprecato buona parte delle monete ma credo che ne valga la pena widow abbiamo un danno basso un danno troppo basso devo portare pazienza pian piano le mosche fanno un danno assurdo hp up non proprio quello che desideravo ma va bene così allora ripuliamo la stanza perché mi va bene sprecare ancora mezzo cuore per avere un pochino più di denaro soprattutto poter dai ancora uno va bene basta mi fermo qui perché non voglio andare oltre andiamo a prendere subito la l'eternal earth purtroppo questo cuore lo dobbiamo lasciare tutte le stanze segrete le abbiamo viste qua non ho visto se c'era tinta effettivamente no perfetto quindi andiamo al terzo piano purtroppo abbiamo preso solo un hp up ciao imax me scusami se ho visto solo ora il tuo messaggio una live breve perché tra un quarto d'ora finisco di streamare sto provando la challenge family man scusa se ho visto davvero solo ora il tuo messaggio perfetto ok ok abbiamo detto il boss è di là andiamo di qua il compass va più che bene ok dove sono di là in fondo eh sì minchia non ci arrivo là in fondo dai dai di qua bravi dai ok uno è andato manca l'ultimo perfetto tu l'hai già fatta questa challenge abbiamo trovato il restock merda merda che stanza di merda speravo di trovare la stanza segreta per quello che ho usato la dad's game che stanza di merda però mi ha donato un bordello di monete e adesso siamo wow speravo ci fosse la stanza segreta cosa che invece non è rivelata esserci va bene va bene ok 13 monete se trovassi una bomba sarebbe già tempo di andare allo shop subito su di lui bravi dai ancora bravi ok usiamo assolutamente la chiave no non mi va 714 poi non avrei nemmeno l'altra moneta ok io sapevo che qua c'era una stanza segreta me lo sentivo cuori ok devo trovare potrei andare in una stanza segreta con così tanti cuori bomba wow controllo la chat qua bravi bravi di nuovo dai dai ok si ci entro non ho fatto benissimo la bomba la provo qua speravo ma ma raga mi ha teletrasportato lol vabbè peccato entriamo di nuovo ok cazzo adesso non ho bomba vieni qua vieni qua vieni qua brava oddio te sei molto pericoloso via devo stare attento vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua sei troppo pericoloso tu vieni qua di sicuro l'altra ok le stanze segrete le abbiamo trovate tutte quindi non c'è niente da fare ok uno è andato ok mezzo cuore non quello che volevo oh 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 brutta stanza ok un'altra monetina a sto punto potrei provare a prendere due item da sette contando che il primo lo lascerei via quasi sicuramente perché l'idea di aprire tutte le porte mi può tornare utile soprattutto quelle segrete vediamo non ci è andata bene avrei pigli savings a sette monete e chiaramente non posso farmi ahhh tre di qua l'unica sarebbe uccidere il tipo ma non posso vabbè andiamo al boss ma pip oddio che boss del cazzo lo odio lo odio è il mio boss su cui di sicuro perdo almeno un cuore e mezzo lui è the blowout mi danno troppo fastidio non riesco a concentrarmi sul fatto che salti sul fatto che abbia gli occhi che roteano e sul fatto che lanci anche il suo merda di muco quello che è ecco adesso viene la parte difficile dai dai subito ahhh vedete uno ci sono andato a sbattere ecco un cuore me l'ha tolto dai uccidetelo please 2 cuori ok alle tante purtroppo range up tears up anche dei cosi no forse si forse si forse si forse si torniamo indietro a prendere dei cuori ok peccato che qua non ci sia niente che mi possa servire qua si ok non ho bombe non posso prendere bombe potrei prendere la candela prendo la candela posso della cosa di mamma mi potrebbe essere più utile vediamo prendo la candela dai prendiamo la candela e proviamoci tra l'altro la candela non danneggia quindi devo per forza andare giù devo arrivare a Isaac ragazzi è dura è dura ok ok perché mi si è bloccato tutto di colpo e cos'è ok ragni maledetti no eh ok buono 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 perfetto ti faccio esplodere dopo tra l'altro il fuoco che si rigenera più volte Agalas speravo in gira è utilissimo effettivamente ok forse voi posso mettiamo distruggervi tutte allora vediamo se io dono i cuori al tipo mi prende anche quelli neri no va bene volentieri allora ne ho almeno uno e mezzo un padestra ok acid baby perfetto va bene va bene va bene mi darà più pillole potrebbe essere una buona cosa potrebbe essere anche un'ottativa cosa però ne vale la pena assolutamente perché dopo una serie di pillole negative di sicuro potrò fare la run in una maniera tranquilla voglio aprire tutte le cacche non mi interessa niente vedete perché le apro perché potrei essere fortunato qua no assolutamente qua è di una rottura aspettate però abbiamo la cosa segreta no non ci credo vabbè una è andata ok calma e sangue freddo eh va bene al tornare indietro aspettare che diventino rosse esatto eh va bene è finita abbiamo perso due cuori due cuori in questa stanza di merda ok buono 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 mi servono monete pillole proviamo ok bene cato something's wrong di nuovo ok va bene va bene ok non mi da niente quindi va bene andiamo avanti di là ho saltato una cesta non mi ricordavo ok il ragnetto non è proprio quello che volevo però dobbiamo un po' adattarci no allora adesso contiamo che le nostre risorse sono un po' merda non prendere monete stronzo quanti ne ha spawnati speravo nello steam sale nello steam sale si di hermit speravo anche qua in qualcosa di buono oh 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 io ho usato usato il fuoco eh ragazzi ho perso due vite ma tre per dei ragni del cazzo oh meno male vediamo un attimo indietro avrei bisogno di una bomba qua ah la cesta è proprio lì in mezzo fortuna proprio come al solito però possiamo fare la challenge no no senza bombe tra l'altro non possiamo neanche cercare la stanza segreta cominciò a vedere il sentore che questo cos'è 48 hour energy ok dai fatta buona una chiave ok è spawnato proprio sul I'm excited bene eh lo sapevo non potevo fare niente se no così merda adesso troppa vita anche qua e dai ok cuore wait to win ok wow altre monete eh vabbè mi si esplode pazienza ecco tinta niente the stain proviamo guardate grazie a dio mi spano su mi spawnano su sulle cose ok è andato 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 questi sono solo gli altri fuori ok un hp up di nuovo si danno più hp up però con i 50 di danno siamo a livelli di alza in più non c'è shop quindi niente da fare andiamo giù cruz of the lost va bene no vaffanculo come han fatto colpirmi eh vabbè qua si però prima ok va bene bombe vi prego bombe ok non mi fa niente questo però di là direi che possiamo concludere qua la challenge e andremo avanti nella prossima episodio ok un'altra bomba cioè la prima bomba anzi che trovo non ci credo ok meno male dai 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 buono 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 no damage perfetto non era così scontato 15 monete 15 cazzo di monete ok dai 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 solo 3 abbiamo ok buono 48 48 hour energy se non si è capito sto cercando il negozio merda che merda di stanza guardate dio bello vabbè prendo il bad in a box sicuramente perché un altro minio vabbè raga sono le 9 2 abbiamo fatto un'altra ora in madino oggi siamo a 4 ore di di streaming direi che può bastare qua io esco dal gioco perché devo fare altro ci vediamo domani ciao a tutti buona serata